Beh, non importa cosa dice il calendario. Per me la primavera inizia con la prima di campionato. Guarda là. Che diavolo vuoi fare? Rory, metti giù il fucile. Hai fatto quello che dovevi. Potresti dare un'occhiata a Bill? Certo, che cosa? Non lo so, non è normale. È tutto a posto, mi sento bene. Che programmi hai per il weekend? È tutto a posto, mi sento bene. Ben! Ben! Che cosa fa, papà? Gira con un coltello. Che cosa hai fatto? Da quanto gioca la bella statuina? Un paio d'ore, più o meno. Esattamente come Rory. Si mette male. Si mette male. È conteggiato, David. Non puoi saperlo. Non sono malato! Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. No!